Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. In questo e nei prossimi video del corso dedicato all'Aviso a Jforex creeremo insieme una strategia di trading utilizzando appunto l'Aviso a Jforex e vedremo come testarla e attivarla su un conto di trading con la Jforex. I concetti di base dell'Aviso a Jforex sono già stati spiegati in altri video di cui ti lascio il link qui sotto in descrizione per cui se te li sei persi ti consiglio di mettere in pausa e andare a vederli in quanto poi ti sembrerà tutto molto più chiaro. Inoltre essendo gli argomenti trattati davvero tanti per rendere la spiegazione più chiara e semplice abbiamo suddiviso questo mini tutorial in quattro video e in ognuno di questi impareremo qualcosa di nuovo. Ma adesso cominciamo per cui aprite la Visual Jforex e ci vediamo subito dopo la sigla. Prima di passare alla programmazione di un trading system ovviamente dobbiamo definire la strategia che vogliamo programmare. Per essere chiaro la strategia che vedremo è solo un esempio scelto a scopo didattico per permettervi di imparare le logiche della piattaforma e non deve essere interpretato come un incentivo all'investimento o un consiglio finanziario. Vi sconsiglio anche di utilizzare la strategia che programmeremo per fare trading in quanto non è questo il suo scopo. Bene cominciamo quindi col definire la nostra strategia. Anzitutto si tratta di una strategia mirverting e che quindi sfrutta la naturale tendenza di certi strumenti finanziari a tornare verso il proprio valore medio. Lavora sul cross GBPUSD su candele orarie e utilizza le bande di Bollinger per individuare i setup di ingresso a mercato. I parametri da utilizzare per le bande di Bollinger sono quelli standard. Andando più nel dettaglio il setup di ingresso di ordine buy si verifica quando la candela oraria attraversa dall'alto verso il basso la banda di Bollinger inferiore. Mentre il setup per un ordine sell lo troviamo quando la candela incrocia dal basso verso l'alto la banda di Bollinger superiore. Al verificarsi del setup si apre un ordine direttamente a mercato buy o sell a seconda delle condizioni all'apertura della nuova candela oraria. Relativamente alla gestione del rischio il trading system deve posizionare il take profit in corrispondenza della banda di Bollinger media relativa alla candela in cui si è verificato il setup ed il rapporto tra take profit e stop loss deve essere pari a 2. Per finire aggiungiamo un'ultima condizione che limita l'operatività dalle ore 8 fino alle ore 18 di tutti i giorni. Ora che abbiamo capito come funziona la strategia è bene perdere qualche minuto nel formalizzare le regole di funzionamento in maniera univoca. In questo modo quando andremo a rivederle durante la programmazione del trading system non avremo alcun dubbio nella loro interpretazione. Vediamo quindi che in questa prima slide sono riportate le caratteristiche principali della strategia ovvero il tipo di strategia, lo strumento finanziario, il time frame e l'indicatore scelto. Nella seconda slide invece sono stati formalizzati i setup per l'apertura degli ordini. Prendendo l'esempio relativo all'ordine buy vediamo che questo deve essere aperto a mercato all'apertura della nuova candela quando rispetta le seguenti tre condizioni ovvero il prezzo di chiusura della candela deve essere minore della banda di bollinger inferiore mentre il prezzo di apertura deve essere maggiore il che significa che la barra è discendente e attraversa dall'alto verso il basso la banda di bollinger ed infine l'ultima condizione l'orario in cui dovrei aprire l'ordine è compreso tra le 8 del mattino e le 18 della sera. La terza slide è dedicata a risk management infatti imponiamo il take profit pari alla banda di bollinger media ed il rapporto tra take profit e stop loss pari a 2. Infine per completezza e per fugare ogni dubbio viene carito che take profit e stop loss sono fissi e non modificabili nel tempo e che la chiusura degli ordini avviene solo tramite di essi per cui il trading system non deve occuparsi della gestione degli ordini già presenti a mercato. Concludiamo con la slide dedicata al money management in cui viene definita la size delle operazioni e viene specificato che è fissa ed uguale per ordini buy a sell. Dopo questa fase di formalizzazione delle regole del trading system possiamo finalmente passare alla visual jforex. Anzitutto creiamo una nuova strategia per cui andiamo in alto su file e clicchiamo su new e all'interno della finestra inseriamo il nome della strategia che chiamiamo strategia as trading ed infine clicchiamo su create bene come ho già spiegato in uno dei precedenti video nel workspace troviamo sempre i tre star points on candle on tick e trade event e la prima cosa da fare quando si programma un trading system è decidere quale di questi utilizzare. Escludiamo lo star point trade event in quanto usato generalmente per gestioni particolari degli ordini per cui ci concentriamo su long candle e long tick. Long tick permette di eseguire il trading system ad ogni nuovo tick per cui ad ogni nuova quotazione dello strumento finanziario il programma viene eseguito ripercorrendo tutti i blocchi di cui è composto. Lo star point on candle invece esegue il trading system ad ogni apertura di candela quindi il programma si attiva solo nel momento in cui si crea una nuova barra in funzione del time frame scelto. Dal momento che abbiamo stabilito che il nostro trading system non deve gestire in alcun modo gli ordini già presenti a mercato che i nuovi ordini vanno aperti solo ad apertura di candela e che i setup sono individuati sulla base delle bande di bollinger e dei prezzi relativi alla candela precedente ormai chiusa non ci serve eseguire il trading system ad ogni tick per cui lo star point che per noi ha più senso da utilizzare è l'on candle. Ovviamente se avessimo scelto l'on tick non avremmo fatto un errore ma faremo lavorare continuamente il programma impegnando inutilmente il nostro computer e rallentando moltissimo i backtest e le ottimizzazioni della strategia. Usando lo star point on candle quindi ad ogni apertura di candela oraria la strategia viene eseguita e vengono verificati i setup ed eventualmente aperte le nuove posizioni così come imposta dalla strategia. Scelto lo star point possiamo cominciare a costruire la nostra strategia inserendo i blocchi nel workspace. La prima cosa da fare e che può essere considerata uno standard per la creazione di ogni strategia è filtrare il time frame e lo strumento su cui vogliamo operare. Questa operazione alleggerisce l'esecuzione del programma in quanto dobbiamo immaginarci che dallo star point che abbiamo scelto escono informazioni relative a tutti gli strumenti finanziari disponibili sulla piattaforma che sono centinaia e di ognuno di questi vengono presi in considerazione tutti i time frame disponibili che vanno dai 10 secondi al mese. Il fatto di filtrare subito dopo lo star point il periodo e lo strumento su cui effettivamente lavorerà la strategia consente di ridurre i dati e le informazioni che la piattaforma deve mantenere a disposizione alleggerendone l'esecuzione. Per selezionare il time frame e lo strumento finanziario inseriamo due blocchi if che troviamo sulla destra nella sezione component e nella sottosezione logical. Ci clicchiamo sopra e trasciniamo i blocchi nel workspace subito sotto lo star point. Partiamo col filtrare il periodo. Sappiamo che il blocco if mette a relazione due variabili e le confronta tra di loro. Allora come prima variabile mettiamo la variabile candle period che troviamo sulla sinistra nella sezione on candle in quanto usiamo lo star point on candle e nella sottosezione last bid candle. Clicchiamo sulla sotto variabile candle period e la trasciniamo nel primo campo del blocco if. Questa variabile nella pratica contiene le informazioni relative a tutti i time frame di tutti gli strumenti finanziari in uscita dallo star point. Per filtrare tra tutti i time frame disponibili solo quello che interessa a noi cioè quello orario impostiamo nella seconda variabile il periodo orario. Ora colleghiamo questo blocco allo star point e al secondo blocco if usando l'uscita con il simbolo uguale. In questo modo dal primo blocco if passeranno solo le candele che hanno periodo di un'ora. Il secondo blocco if lo dedichiamo al filtraggio dello strumento e procediamo in modo analogo. Dalla variabile last bid candle sulla sinistra clicchiamo su candle instrument e trasciniamo la variabile nel primo campo del blocco mentre come seconda variabile impostiamo il cross sterlina dollaro quindi gbp usd. In questo modo in uscita dal secondo blocco if chiaramente dal simbolo uguale passeranno solo le informazioni relative al time frame orario del cross gbp usd filtrando tutto il resto e alleggerendo l'esecuzione del trading system. Se vogliamo fare un ulteriore passo avanti dobbiamo ricordarci che tra tutte le variabili che troviamo nella sezione a sinistra esistono delle variabili di default sempre presenti in ogni strategia che ci tornano utili per poter utilizzare la stessa variabile all'interno di più blocchi. Chiaramente il vantaggio principale di utilizzare la stessa variabile in più blocchi come ad esempio lo strumento finanziario è quello che in caso di modifica non devo ricordarmi in quali blocchi ho inserito uno specifico dato andando a modificarli tutti uno per uno ma mi basta modificare la variabile per ritrovarmi la stessa modifica in tutti i blocchi. Andiamo quindi nella sezione default variable sulla sinistra e clicchiamoci sopra. Vediamo che compaiono sei variabili tutte con prefisso default e che tra queste ci sono le variabili default instrument e default period. Clicchiamoci sopra e trasciniamole nella posizione corretta all'interno dei blocchi. Ora bisogna cliccare sulle tre lineette della variabile default period per impostare il time frame corretto e lo facciamo selezionando il dato hourly nel campo start value. Dopodiché bisogna cliccare su save per salvare l'impostazione. In questo modo impostiamo la variabile default period sul time frame orario e tutte le volte che usiamo questa variabile sappiamo già che è impostata su questo time frame. Facciamo la stessa cosa per lo strumento per cui clicchiamo sulle tre lineette della variabile default instrument e nel campo start value scriviamo e selezioniamo GBPUSD. Vediamo che entrambe le variabili hanno il campo global impostato su true. Questo significa che si tratta di variabili libere nel senso che sono modificabili nel momento in cui faccio un backtest, un'ottimizzazione o le lancio sul conto di trading, demo reale che sia. Se invece il campo global fosse impostato su false significa che l'unico modo per modificare la variabile è modificando direttamente il programma del trading system, quindi utilizzando la Visual GForex. Vedremo comunque nei prossimi video quanto è importante la scelta del campo global per l'utilizzo del nostro trading system. Ora che abbiamo per certi versi inizializzato il trading system possiamo occuparci della parte più operativa dedicata all'apertura delle posizioni e per farlo dobbiamo fare in modo che il trading system sia in grado di individuare i setup per l'apertura delle posizioni. Di questo però ce ne occuperemo nel prossimo video. In questo video, anche se non abbiamo visto la costruzione di tutta la strategia, abbiamo imparato alcune cose fondamentali per la programmazione di un trading system. Abbiamo infatti visto come scrivere e formalizzare le regole di funzionamento di una strategia automatica, abbiamo capito come scegliere lo star point da utilizzare all'interno della Visual GForex e abbiamo visto come utilizzare il blocco IF per filtrare il periodo e lo strumento su cui vogliamo operare, scartando tutti gli altri. Ed infine abbiamo capito come utilizzare le variabili di default presenti nella piattaforma. Nel prossimo video proseguiremo con la programmazione del trading system inserendo le condizioni operative per l'individuazione dei setup. Per cui se non volete perdervelo iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per essere avvisati non appena uscirà. Inoltre se avete delle domande scrivetele nei commenti e sicuramente vi risponderemo. Se questo video vi è piaciuto e l'avete trovato utile vi chiedo di lasciare un like per supportarci e come sempre vi ringrazio per aver visto il video ed essere rimasti fino alla fine. A presto! Grazie a tutti!